Costruiamo una tavola dove ci sia posto per tutti. Oggi e domani un pasto al giorno torna nelle città d'Italia e abruzzesi. Le persone che soffrono la fame, dicono i volontari della comunità Papa Giovanni XXIII, sono più di quelle che pensiamo e sono anche molto vicine a noi. Con un pasto al giorno possiamo preparare 7 milioni e mezzo di pasti all'anno, ma soprattutto accogliere con amore e cura ogni persona che si siede alla nostra tavola e far sì che ci sia posto per tutti. Diverse le piazze abruzzesi coinvolte. A Chieti il succorso maruccino Luca Fortunato, responsabile della capanna di Betlemme. Sì, oggi in tutta Italia 800 postazioni per questa iniziativa che facciamo una volta all'anno e ogni giorno diamo da mangiare ad oltre 40.000 persone, di cui per più della metà di queste persone non c'è nessun fondo pubblico e quindi serve fare una giornata di questo tipo sia per raccogliere sia per sensibilizzare, perché ci sono persone che non possono permettersi un pasto. La nostra capanna di Betlemme a Chieti accoglie appunto i senza fissa dimora, accoglie i papà separati, accoglie donne vittime di violenza, accoglie tutte le persone che escono fuori dalla catena dei diritti e quindi a loro viene dato un tetto e un pasto. Al giorno d'oggi la situazione qual è anche alla luce della pandemia, della guerra, del caro energia Fiedricene? Sì, il disastro maggiore del caro energia da gennaio a questa parte soprattutto perché ha favorito l'aumento degli sfratti esecutivi sia in casi in affitto ma sia in persone che pagavano mutui, le quali si vedono tolte la casa, quindi questa è l'emergenza maggiore, quasi irrisolvibile, speriamo che si faccia qualcosa. Allo stesso tempo anche organizzazioni come le nostre, il caro bolletto è uguale piega, quindi speriamo davvero in una risoluzione, altrimenti di qui a un anno se continua così diventerà un disastro. Vogliamo fare un appello ai cittadini affinché diano il loro contributo? Sì, vabbè, un appello affinché diano il loro contributo, anche piccolo, ognuno faccia qualche po', avrà una ricaduta sul territorio perché alla fine ci prendiamo cura di tantissime persone.